Oggi showcase molto particolare perché andiamo ad analizzare il personaggio free to play migliore del gioco Perché? Perché? Vi do subito una spiegazzana A parte già l'ho buttata al massimo quindi raga Questo showcase non può venire mai così tanto male Allora, Fista Force Minion, Event Exclusive Blu, Respiri Gun, PC 1% di Special Move, per T-Timer Count Detabiti, più 20% di Blast Damage Infitto, Cardo Speed Detabiti su Event Exclusive e Frisa Saga Quando entra, più 50% di Blast Damage Infitto, non cancellabile, meno 10 Al costo delle Blast Stessa cosa dopo, credo, dopo che sbiccetto un cara Ah, dove avevo usato una Blast, più 50% di Blast Damage Atti boot, upgrade meno 20 Usnade Damage Cut Effect, per 5 dm Account Questo qui dopo essere entrato in battaglia Dopo... Con un Alleato Dopo essere sbicciato con un Alleato credo che toglie una storia da un incremento per una storia del drago 35 manta questo qui si è attiva dopo aver buttato buttato ci ha lanciato il ringrazio il 50 per cento di critica vet per 5 del mercato che che minchia tanta roba e 12 1 per cento di chi per tendere mercato alla frisa forza saga e così riso le medagliette per apporto che non ci facciamo niente in caso no questo è il team zenka e benciati per zenka benciato per tre andiamo 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 facciamoci fare danni stappolettettando dovremmo spettare noi posto ieri ma non c'è con i danni Ehm, beh, beh, che vi ho detto quando dico che questa qui è una delle ex migliori del gioco? Ce la fai? La faccio il cazzo! Ecco, ragazzi, quando io vi dico delle cose, non mi dovete fidare. Se avessi una verde, fosse meglio? Ah, è stupendo. È finito? Bene, prossimo match. Vabbè nel secondo match, vabbè nel secondo match. Vabbè nel secondo match, vabbè nel danno assurdo che fa questa ex team. Dai, banca pochissimo. Dammi l'ultimo colpo. Ok, grazie. Ti ha messo 50 anni. Infatti. Potete sbucciare quanto volete, ma adesso non avete capito che continuino a fare danni. Carta verde. Aumentiamo i danni. Cosa è facile. Cosa è sfinito, raga? Questa ex team è particolarmente rotta, raga. Perché lui, praticamente, dopo aver lanciato racing, ma anche prima, lui è un'ex team predisposta sui crypt. Ogni cosa che fate, un crypt assicurato. Leggite blast, crypt. Verde, crypt. Blu, crypt. Racingrush, crypt. E vi rimane. Non è che se ne va, vi rimane.